La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo martedì 5 aprile, una rassegna stampa che apriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Lo facciamo partendo dal mattino di Napoli, il mattino che mette in primo piano l'incontro del ministro Boschi con i PM sul caso Petrolio in Basilicata. Ebbene, leggiamo l'apertura, Boschi ai PM, io corretta. Renzi attacca l'inchiesta di Potenze Maia a sentenza, il mio reato è sbloccare le opere. Caso Trivelle, il ministro è ascoltato per due ore a Palazzo Chigi, tutto si è risolto nelle regole, ora tocca alla Guidi. La politica le procure senza argine, l'analisi di Carlo Nordio, mentre Bagnoli, il premier sferza dei magistri, mani sulla città, le avesse messe lui. Poi in taglio basso, la cronaca caserta, la caserma dei bersaglieri spacciatori, arrestati quattro militari, vendevano cocaina ai comilitoni. Poi ancora il caso Panama, Messi offshore, il papà mi dice cosa firmare. Poi ampia parte dedicata allo sport in taglio alto, Iguain quattro giornate, la sentenza già scritta. Anticipate le decisioni del giudice sportivo sul caso Udine, fatto filtrare il rapporto dell'arbitro, il fratello Di Gonzalo è furioso con la Lega. La legge non è uguale per tutti. L'editoriale di Francesco De Luca, due pesi, due misure e una sporca regia in riferimento a quanto accaduto il 20 marzo, la testata di Bonucci a Rizzoli che non aveva nemmeno espulso il giocatore della Juventus. Ieri invece le mani di Iguain addosso all'arbitro nella partita di Udine e l'espulsione addirittura le quattro giornate per il Pipite. Il controcampo, i cinque ottimi motivi per non arrendersi adesso Anna Trieste traccia i motivi per cui il Napoli deve ancora credere nella vittoria del titolo. Lasciamo la prima pagina del mattino per trasferirci ora sempre sul mattino ma nella pagina dedicata a Salerno. In primo piano la scuola, il controesodo dei professori, docenti con la valigia andata e ritorno in 2000 dalla nord. A Salerno, il paradosso della buona scuola, ingorgo tra titolari e nuovi assunti. Piazza della Libertà, i PM chiedono del Luca a giudizio, stessa richiesta per l'ex giunta, falso in atto pubblico, la procura accelera. Poi ancora andiamo a leggere la politica, centro-sinistra, primo summit pronto, il listone dei moderati, al ruggi, pochi infermieri e stop alle operazioni, allarme ad ortopedia, solo emergenze. Sindacati da Cantone e al pronto soccorso e ancora boom di accessi. Ancora lo sport con la fotonotizia, il calcio salernitano indomabile, otto finali per la salvezza dei Granata. Qui il gol di Gatto nel finale, nella partita del Piola di Novara che aveva regalato il punto in trasferta alla squadra del Lotito Mezzaroma. Lasciamo la prima pagina di Salerno dedicata dal mattino per andare sugli altri quotidiani e andiamo su cronache del salernitano, l'apertura dedicata al comune che paga il Pisano 1.700.000 euro. Per i danni subiti dai loro appartamenti in via Capone e fittati all'amministrazione, Cammarotto ha parlato con i proprietari, si va a Cupasiglia, 100 assunzioni. 50 abitazioni risistemate, già liquidata la prima rata di 324.000 euro, il tutto entro l'anno prossimo. Salerno, centro storico, sequestrato il Deor della Lampara, poi ancora furti di documenti, controlli su Omar, altri 3 nordafricani incontrollati. L'inchiesta della DDA di Salerno cerca anche di svelare se ci sia un collegamento con i frequenti furti o tentati furti di documenti nei comuni dell'agrovesuviano. In taglio centrale, Pagani, la cantata dei Caccaviello, sospesi il carabiniere Baglieri dalla tenenza di Pagani e il finanziere di Salerno. Poi ancora Torre del Greco, 15 euro per iscriversi, il preside di Martito andate da altra parte, gli orari a Pompei, Orsineri si scusa con i negozianti, ho sbagliato. A Salerno spacciava droga davanti alla scuola, arrestato un marocchino, mentre per le elezioni di Battipaglia si profila l'accordo tra Zara e Cecilia e Mopta punta sull'appoggio dei big. Questa era l'apertura di Cronache del Salernitano. Andiamo ora a leggere la prima pagina della città di Salerno, la città che apre a processo De Luca e l'ex giunta. La richiesta dei PM è accusa di falso per la variante di Piazza della Libertà. Intanto è scontro nel PD, in direzione nazionale, il governatore attacca Cuperlo, verso le elezioni invece il centrodestra e Forza Italia si spacca, Fasano prova a ricucire con Celano. Il reportage, lo lungomare di Salerno, l'appello dei residenti va riqualificato, poi ancora trivellazioni petrolifere, giudici nel mirino di Renzi, boschi due ore dai magistrati. Lo scandalo di Panama Papers, imbarazzo per i conti offshore, ma il Kremlin replica solo bugie. Uranio è impoverito, dopo le dimissioni muore il militare di San Severino, mentre arruggi pochi infermieri, ortopedia chiude la esale operatoria. In taglio alto la denuncia, cave mai bonificate, trasformate in discariche abusive, mentre per l'inquinamento, nuove punti critici tra Fratte e Pellezzano. Questa era l'apertura della città di Salerno, quest'oggi in edicola. Ora leggiamo invece quello che è il tema caldo di questi giorni, la vicenda petrolio che ha investito il governo con le dimissioni dell'ormai ex ministro Guidi e che coinvolge anche il ministro Boschi. Ministro Boschi che ieri è stata dai magistrati, lo leggiamo nelle pagine di primo piano del mattino, petrolio, i magistrati da Boschi, l'emendamento è corretto. Il ministro ha colloquio per due ore con il pool arrivato da Potenza. Per Gai il procuratore si presenta con l'aggiunto della DDI, sostituiti Basentini e Triassi, domande sulle possibili forzature durante l'iter legislativo della norma ripescata. I responsabili dei rapporti delle Camere ribadisce la correttezza dell'intero procedimento. Il ruolo del compagno della Guidi al centro dei quesiti posti dalle toghe. Intanto verranno sentiti anche gli altri, il ministro di missionario e altri componenti del governo. La lunga giornata di Mariera finisce in samba, il ministro dopo l'incontro con le toghe va alla festa dell'ambasciata brasiliana. Niente sfida con il grillino di Bastista, ma sia a Vespa. Chi mi attacca non sa che sono un osso duro queste le parole della Boschi. Restando sul tema, il consulente della Guidi lavorava gratis, spuntano sospetti anche sulle primarie PD, lobby degli appalti, nel mino anche il sottosegretario De Filippo. La scelta di passe sarebbe arrivata direttamente dall'ex ministro appunto. Intanto da Leni, dalla Dide Scalzi, chi sostiene che noi avveleniamo non sa di cosa parla. Stanno avvelenando solo il sistema industriale per D'Ambroso e il traffico di influenze illecito indotto dalla Severino. Deve essere interpretato in linea con il suo obiettivo, non è un strumento indefinito. Augusto, acquisiti decine di atti del demanio, particolare attenzione alle concessioni rilasciate che riguardano cantieri navali ed imprese. In taglio basso, Tempa Rossa, condannati di ex vertici total, prescrizioni in arrivo, 47 anni di reclusione complessivi rispetto ai 90 richiesti dall'accusa, 3 anni all'ex amministratore leva. Questa è un po' la situazione anche per quanto riguarda il processo total che è quindi giunto a conclusione. Andiamo ora e cambiamo pagina, leggiamo per chiudere la nostra prima parte, anche l'apertura della Nuova del Sud. Renzi attacca la procura di Potenza e tace ancora sull'inquinamento in Val d'Agri. Dalla direzione nazionale del PD, il Premier difende la scelta di sbloccare Tempa Rossa. A Potenza inchieste maismai a sentenza, ma arriva la condanna degli ex vertici total per il lavoro nel centro olio di Corletto. Ancora l'inchiesta, i PM Potentini a Roma per ascoltare la Boschi sull'emendamento Guidi. Il Premier e Pittella si dimettono, invece i 5 Stelle piombano al centro olio di Vigiano. Pronte le emozioni di sfiducia, bisogna mandarle a casa e questa mattina Blitz ha Tempa Rossa. Infine c'è spazio anche sulla Nuova del Sud per lo sport, lo andiamo a leggere. Kickboxing, il Vulturnite 2 fa risplodere il Movimento Lucano. C'è spazio per il rugby con il Cus Potenza nella storia. Campione con un turno di anticipo. Questi i titoli principali della prima pagina della Nuova del Sud. Noi con la Nuova chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa. Ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. Seconda parte della rassegna stampa di questo martedì 5 aprile. Andiamo a leggere ora gli altri argomenti principali trattati nelle pagine dei quotidiani in edicola oggi. Andiamo sul mattino e andiamo a parlare della scuola. Scuola con valigie di ritorno dopo la riforma. Sono 2000 i professori che dal nord arrivano a Salerno. Domande di trasferimento in gorgo tra titolari e nuovi assunti per pagliare. Purtroppo il provveditorato sarà costretto a respingere molte richieste. Sono poche le disponibilità per Cionciano. Assistiamo ad un'ondata di ritorno mai vista. Continua intanto il calvario dei docenti. Disagio e costo della vita insostenibile. I docenti puntano ad un posto a casa. Nel taglio basso, nella seconda parte, la maggior parte bassa di questa pagina, si parla però anche dei professori che dicono solo slogan, restiamo precari, sotto minaccia. D'Auria dice, docente di sostegno, lancia accuse e sospetti, troppo potere ai presidi. L'affondo, vedo il rischio, si legge, di clientele sull'immagine, sull'imminente emanazione del decreto di mobilità dei professori. Non si cerca la qualità, ma i numeri, la riforma ha solo garantito le emissioni in ruolo. Queste un po' le parole. Sul tema della scuola, c'è l'inchiesta del mattino, che parla anche della mappa degli istituti scolastici e titolo alla rimonta dei licei. Lo andiamo a leggere. Rallentano i tecnici. Record a Saveri, Alfano I e De Santis. La conferma il liceo di Torrione vince la sfida di iscrizioni con lo storico tasso. L'Expoa, la Mendola e il Dipalo fanno registrare un aumento significativo delle iscrizioni. Lo scientifico da Procida mantiene le posizioni, ha arginato il decremento demografico. Boom, invece al Profaghi, cresce l'attenzione dei giovani per il lavoro in agricoltura. In dettaglio le iscrizioni e degli studenti proprio nei numeri tracciati dei nuovi iscritti in questo grafico. Poi ci sono anche le parole di non siamo riusciti ad accettare altre iscrizioni per carenza di spazi e classi. Le parole dei dirigenti scolastici. C'è comunque un'inversione di tendenza nelle scelte così l'innovazione fa risorgere i classici. Queste sono di fatti le pagine dedicata alla scuola. La scuola che ha visto concludersi la prima fase, quella delle pre-iscrizioni. Lasciamo la scuola per parlare di cronaca e di politica. De Luca rischia di finire a processo, lo leggiamo sulle pagine della città di Salerno, a processo per falso. Chiesto il rinvio a giudizio per la variante di Piazza della Libertà, coinvolti anche gli assessori comuni di Salerno che l'approvarono. Intanto per la politica verso le amministrative di Salerno, il centrodestra, Fasano tratta il passaggio di Celano in Forza Italia. Sempre restando sulla politica, vertice del centrosinistra, i verdiniani non ci sono, ma a lungo assicura stiamo allestendo la nostra listra. incontrerò il segretario Dem, l'Amdolfi, non è una coalizione a numero chiuso. Martedì ci sarà anche Napoli. Il Movimento 5 Stelle parla di online il sito degli eletti in regione, mentre per la politica il consigliere Petillo, sempre più vicino ai Verdi di Ragosta, Roberto De Luca, potrebbe evitare addirittura di scendere in campo. Questa è la situazione politica verso le amministrative di Salerno. Ora invece parliamo di cronaca, di cronaca di casa nostra, lo facciamo sempre attraverso la pagina della città di Salerno perché ci illustrano un po' quelli che sono gli argomenti principali sulla stampa locale per quanto riguarda sia la giornata di ieri ma anche quello che può essere la giornata di oggi. In primo piano c'è la questione a Pola, quattro operai della Ergon protestano sulla torretta da quasi due anni, i dipendenti non percepiscono gli stipendi, stiamo disperati, lavoriamo gratis e rischiamo il licenziamento. A Sala Considina, ve ne abbiamo già dato conto ieri nelle nostre due edizioni del Tg, la maxi evasione fiscale, tre persone denunciate per aver occultato 12 milioni di euro di ricavi all'erario e non corrisposto, IVA pari a 2 milioni di euro. Una truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Sala Considina, Pollica sequestrata, rete da pesca abusiva da Ceroli, Torrossaia, travolto dal trattore, finisce in ospedale ma non rischia la vita. Santa Marina Mianto, interrato vicino al fiume, la denuncia di fare verde Cilento, seppellito da un escavatore. Ottati, incontro a Salerno per la strada chiusa da agosto, mentre in taglio basso, public hub, terreni pubblici e piccole imprese e giovani. Mettere a sistema tutto quello che il territorio può offrire dai terreni e fabbricati e favorire lo sviluppo delle piccole imprese e di quelle giovani che vogliono ancora investire idee e forze al lavoro nel luogo ruolo d'origine. Questo è l'obiettivo di Public Hub, progetto pilota per l'utilizzazione in chiave produttiva dei terreni e dei fabbricati comunali. Iniziativa nasce con partnership tra il sistema Cilento, dei comuni di Vallo della Lucania, Novivelia e Cannalonghe prevede vari fasi di attuative che consentono di accompagnare le imprese che coinvolgono utilizzare il patrimonio culturale. Questa era la pagina della città di Salerno dedicata alla cronaca locale, ora invece ci concentriamo sullo sport partendo dal Napoli, Napoli che si trova a dover far meno di Higuain per quattro giornate, lo schiaffo, così titola la pagina sportiva del mattino, Higuain punizione shock verso lo stop di quattro turni. Deluso il fratello manager, c'è uno stanovento che fa pensare a male, il Napoli prepara l'appello, le mani di Gonzalo, corromente sui rati. Il precedente, Borca Vadero, la pena ridotta a tre giornate, intanto però anche da ex Juventini arriva una frecciata pro Napoli, Tacchinardi, dice perché Bonucci, Graziato e il Pipita, no l'ex Juventino, troppa attenzione, troppe polemiche, spero ancora che non arrivi la stangata per l'argentino. È stata una reazione isterica, dettata dalla frustrazione per la sconfitta. L'opinionista, i cerrati, se non soffre le personalità dei giocatori, Rizzoli, sì, ritornando proprio sul caso della mancata espulsione di Bonucci. Una squalifica anticipata sul web è l'ultima vergogna del calcio. Infatti, e qui poi si porta anche le due foto, 0 giornate di squalifica per Bonucci, 4 forse per Iguain. Ebbene, dicevamo, la squalifica anticipata sul web è uscito fuori anzitempo quelle che saranno le decisioni del giudice sportivo che verranno invece annunciate nella giornata di oggi. Lasciamo il Napoli per parlare, invece di Salernitana rincorsa la salvezza verso otto finali, oltre il novantesimo però è ormai non è più zona Cesarini ma è zona salernitana. Il coro degli Ultras messo in pratica nelle ultime quattro trasferte, la voglia di Gatto è il simbolo del carattere dei Granata. Oltre il novantesimo i rifosi cantano, la Salernitana esegue a fatica tra stecche rovinose cadute o tentativi autolesionistici di offside, ma esegue diventata specialità in rimonte, mostra le unghie soprattutto in trasferta dove coglie nel finale ben quattro pareggi. Questa la pagina intanto il notiziario, Tuia ha stirato a Bovo K.O. Bagadur Sidi Alza che dice con il Latina ci sarà. Prosegue la preparazione dei Granata verso la sfida in programma sabato contro il Latina. Andiamo avanti, sempre sulla Salernitana, Ci sono le parole di Abodi da un calcio e rumus, non ci saranno ripescate. Il presidente della Lega di Bia ha illustrato le direttive per la prossima stagione e rivolge un consiglio ai sostenitori, tenetevi stretti, Lotito e Mezzaroma. Intanto la classifica virtuale del Lanciano, il club rischia almeno quattro punti di penalizzazione. Infine in taglio basso c'è spazio per il posticipo di ieri sera tra Bari e Cesena, termina in parità al terzo posto, ci sono ora quattro squadre con il Crotone in testa, il Cagliari a 68, Spenzenovare e Bari e Cesena sono a 54 punti. Questa è dunque la pagina sportiva dedicata alla Salernitana e noi con lo sport chiudiamo questa edizione della rassegna stampa. Vi ricordo che news e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito web, www.tvweb.it, mentre l'appuntamento con l'informazione torna alle 13.45 con l'edizione pomeridiana del nostro telegiornale. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.